benvenuto alla Deutz fa Arena di Lowingen. Oggi voglio presentarvi la nuovissima serie 5D TTV. I 5D TTV sono dotati di una trasmissione TTV a variazione continua. Grazie alla sua ampia offerta di caratteristiche specifiche, i 5D TTV definiscono nuovi standard nel segmento utility. Perché? Diamo un'occhiata ai trattori e lo capirai. La serie 5D TTV è disponibile in 5 modelli con potenza da 88 a 113 cavalli. Se stai cercando il trattore a variazione continua più compatto, leggero e corto, possiamo offrirti il 5090 DTTV e il 5100 DTTV. Questi modelli sono caratterizzati da un'elevata manovrabilità, minor consumo di carburante e la migliore visibilità possibile. Se invece preferisci un motore a 4 cilindri, possiamo offrirti anche il 5090.4 DTTV, il 5100.4 DTTV e il modello di punta 5110.4 DTTV. Maggiori riserve di potenza, distribuzione ottimale del peso e guida più fluida su strada grazie al suo passo più lungo sono i vantaggi dei modelli a 4 cilindri. I motori FarMotion sono progettati specificamente per uso agricolo. Grazie alla corretta cilindrata, erogano potenza a coppie elevate anche a bassi regimi del motore, indipendentemente dal fatto che siano 3 o 4 cilindri. Per raggiungere lo Stage 3B, sono stati installati solo con un catalizzatore DOC e un sistema EGR. Questa soluzione non richiede manutenzione e non richiede tempo per la pulizia del DPF o il rifornimento di AdBlue. Il serbatoio del carburante è comodamente installato nella parte anteriore, facile da raggiungere. Durante il rifornimento, puoi pulire rapidamente gli schermi davanti al radiatore. Grazie alla pulizia dei pre-filtri ciclonici, non è necessaria la manutenzione quotidiana del filtro aria-motore. Con la sua trasmissione TTV, il 5D TTV stabilisce un nuovo livello di comfort e guidabilità. Con la trasmissione a variazione continua, apprezzerà il comportamento di guida fluido da 0 a 40 km orari. La velocità di 40 km orari verrà raggiunta a regimi economici motore. Comfort aggiuntivo e maggiore stabilità sono raggiunti con la sospensione anteriore adattiva con bracci indipendenti in off-chall. Il layout compatto garantisce un angolo di sterzata elevato, mentre l'assale anteriore robusto e resistente consente di trasportare attrezzature pesanti sul sollevatore anteriore. Completano il quadro due prese idrauliche anteriori PTO e sollevatore anteriore, rendendo il 5D TTV il perfetto utility tractor. Diamo uno sguardo alla presa di forza, al sollevatore posteriore e all'impianto idraulico. La serie 5D TTV ha in dotazione una pompa idraulica da 84 litri. Puoi anche optare per la versione Load Sensing da 100 litri. Nella parte posteriore sono disponibili da 2 fino a 5 distributori idraulici, nonché i connettori Power Beyond opzionali. Il sollevatore anteriore è azionabile da un distributore separato. Se necessario, puoi anche aggiungere 4 distributori anteriori duplicati più un ulteriore ritorno libero. Il sistema di frenatura idraulico rimorchio opzionale offre la funzione Dual Mode, che consente di collegare rimorchi Mother Regulation e None. La presa di forza posteriore è dotata di tre velocità ed è disponibile anche una presa di forza sincronizzata. Per il massimo comfort, la presa di forza posteriore e il sollevatore posteriore possono essere azionati esternamente su entrambi i lati. Grazie alla sua capacità di sollevamento fino a 4.310 kg, la 5D TTV ha una forza sufficiente per sollevare tutte le attrezzature tipiche del suo segmento. Come su tutte le serie TTV, anche sulla 5D TTV è disponibile a Isobus. Grazie all'appartenenza di Deutz Fa ad AF, offre una compatibilità al 100%. La compatibilità con tutti gli attrezzi certificati Isobus è garantita. Per ulteriori informazioni sul protocollo Isobus, visitare deutzfa.com. Ma ora diamo un'occhiata all'interno della nuova cabina. Di serie, la cabina è sempre sospesa su Hydro Silent Block e dotata di impianto di climatizzazione per farti stare comodo anche durante una lunga giornata di lavoro. I vani portaoggetti spaziosi in cabina ti aiutano a deporre in sicurezza i tuoi effetti personali. Apprezzerai anche il comfort del sedile a sospensione pneumatica e l'ergonomia del bracciolo Max Com che segue il movimento del sedile. Quattro prese USB mantengono i tuoi dispositivi carichi durante le lunghe giornate di lavoro e ovviamente la radio dispone di una funzione Bluetooth in modo da poter collegare il tuo smartphone per ascoltare le tue canzoni preferite. Una caratteristica che ti piacerà molto è il sistema di sterzo veloce SDD. SDD riduce del 50% il numero di giri al volante che aumenta sostanzialmente il comfort a fine campo o durante il lavoro con il caricatore frontale. Sulla nuova serie 5D TTV abbiamo implementato soluzioni adottate sui trattori TTV più grandi e introdotto nuove funzionalità per rendere le giornate lavorative più efficienti, confortevoli e sicure. Quando si parla di comfort e sicurezza non si può dimenticare di parlare dell'esclusivo a sale anteriore sospeso. Si tratta di un sistema integrato meccanico, idraulico ed elettronico, gestito da un software che non solo consente lo smorzamento delle vibrazioni durante la guida, ma dispone anche di una funzione anti-affossamento in frenata, la funzione anti-rollio in curva e la funzione di autolivellamento attivo su TTV. Inoltre a ciò, l'intelligente bloccaggio del differenziale anteriore con Dynamic Traction Control, attivato tramite il comando ASM, è in grado di suddividere la coppia a ruota sinistra e destra a seconda dello slittamento, garantendo la massima trazione in ogni condizione. Questo, combinato al baricentro basso, conferisce alla nuova 5D TTV un'estrema stabilità sui pendii. Tutti i 5D TTV sono dotati di ben apprezzati freni anteriori. Questo garantisce lo spazio di arresto più breve in qualsiasi condizione. Una volta arrestato, la funzione Power Zero mantiene il trattore fermo in completa sicurezza su tutti i terreni. E per un parcheggio più sicuro anche nelle regioni alpine, il nuovo 5D TTV è dotato del freno di stazionamento idraulico HPB. Questo freno a molla garantisce una pressione costante e mantiene il trattore sempre stazionato in modo sicuro ed efficiente. Subito dopo essere entrati in cabina, si nota la spaziosità della cabina. La struttura a quattro montanti insieme alla bassa altezza del cofano garantisce una fantastica visibilità a 360 gradi, che viene mantenuta anche nelle ore tarde grazie all'illuminazione garantita dalle luci a LED disponibili. E con il tetto posteriore sollevabile è inoltre garantita la visibilità su un muletto posteriore. Con il pedale centrale puoi regolare il volante. Agendo sulla regolazione del sedile e del bracciolo MaxCom, riconosci la straordinaria gestione del layout dei comandi. I comandi seguono la ben nota logica di colifica a colori di Deutz-Fahr per un facile riconoscimento. I comandi arancioni sono per le funzioni del motore e della trasmissione. Giallo per la presa di forza, verde per il sollevatore posteriore e blu per l'impianto idraulico. Tutte le informazioni di cui ha bisogno sono visualizzate chiaramente da InfoCenter Pro. In combinazione con il Mini MMI è possibile regolare facilmente le impostazioni del trattore. Inoltre, il display mostra anche la sequenza attiva della comoda gestione delle capezzagne, che è una caratteristica standard del 5D TTV. Con questa funzionalità è possibile registrare attività ripetitive a fine campo e richiamarle semplicemente premendo un pulsante sul joystick principale. Ma non è tutto. Sul 5D TTV è disponibile anche i monitor. È l'elemento di controllo per la guida, l'interfaccia per ulteriori applicazioni del trattore e può visualizzare fino a due telecamere. Il monitor supporta anche le ultime funzioni di telemetria e isobus. All'esempio, in combinazione con il controllo delle sezioni, fino a 200 sezioni sono controllate individualmente. Per risparmiare fatica, tempo e costi di input, è disponibile anche il controllo delle attrezzature a rate o variabile. E grazie al supporto regolabile, la posizione dell'iMonitor può essere regolata in base alle proprie preferenze. La cabina del nuovo 5D TTV è conforme di serie alla categoria 2. Per proteggervi da polvere, vapori e aerosol agrochimici, offriamo anche un sistema di filtrazione della cabina di categoria 4. Prima di iniziare il lavoro, è possibile attivare il sistema di filtrazione di categoria 4 con una semplice pressione di questo pulsante. Una volta che diventa verde, sai che sei protetto. E questo senza indossare maschere aggiuntive o tute scomode. Sappiamo che ti aspetti prestazioni, flessibilità e versatilità dal tuo trattore utility e queste parole chiave rappresentano le principali qualità della nostra serie 5D TTV di Deutz-Fahrt. Aspetto ai cambi powership o robotizzati, la trasmissione TTV è un grande passo in avanti in termini di prestazioni e flessibilità, poiché la velocità di guida e del motore sono regolabili indipendentemente. La trasmissione TTV presenta tre modalità di guida, auto, PTO e manuale. Con la modalità automatica, si definisce la velocità desiderata e il trattore regola automaticamente il rapporto del cambio e il numero di giri del motore. Mentre in modalità PTO, il numero di giri del motore è congelato per il miglior risultato di lavoro del vostro attrezzo. Infine, se stai lavorando con velocità molto inferiore a 100 metri orari, la modalità manuale è la scelta giusta per te. In modalità automatica e PTO, il 5D TTV dispone anche di due funzioni di controllo della velocità cruise. Premendo semplicemente e tenendo premuto un pulsante, si attiva e si memorizza la velocità cruise. La velocità può essere regolata utilizzando il joystick principale o la rotellina sul retro. Dopo una svolta a fine campo, è possibile riattivare la velocità con un doppio clic. Per consentirti di avere le tue funzioni più utilizzate a portata di mano, abbiamo installato quattro pulsanti liberamente programmabili. Indipendentemente dal fatto che si desideri azionare l'inversore, il sistema di sterzo rapido SDD, il sollevamento posteriore o i distributori, è possibile assegnare semplicemente queste e altre funzioni a questi comandi, per rendere il tuo lavoro quotidiano intuitivo ed estremamente confortevole. Il sollevatore posteriore è sempre controllato elettronicamente e dispone di smorzamento delle vibrazioni. Questo sistema riduce gli sbalzi e aumenta il comfort e la sicurezza durante i trasferimenti su strada. Al posto della versione standard è possibile scegliere un sollevatore posteriore compact che ti permette di avere carreggiate più strette e ti offre la possibilità di avere stabilizzatori laterali idraulici e un tirante idraulico destro, entrambi gestiti da distributori indipendenti e comandi indipendenti all'interno della cabina. Con un attacco a tre punti compatto è possibile una larghezza complessiva di soli 1,75 m, insieme a pneumatici a carreggiata stretta e indicatori anteriori in posizione verticale. Questo, combinato con i potenti motori Farmotion, l'idraulica ad alto flusso e la forma complessivamente compatta, rendono il 5D TTV anche il trattore perfetto per frutticoltori e viticoltori. E con i pneumatici municipali disponibili, il colore della carrozzeria arancione e la sua perfetta visibilità a 360 gradi, 5D TTV sono anche la scelta giusta per la rimozione della neve, la pacciamatura e la pulizia delle strade nei comuni. La serie 5D TTV è un vero tuttofare che sia in azienda, in campo, nei frutteti e nei vigneti o per la manutenzione municipale. Guarda gli altri video su YouTube per ulteriori informazioni e contatta il tuo concessionario Deutz Fa per saperne di più. Il nuovo 5D TTV di Deutz Fa. Qualsiasi terreno, nessuna paura. Qualsiasi terreno, nessuna paura. Grazie a tutti.